Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. È stata una partita molto importante per il proseguo del campionato, sicuramente eravamo un po' tesi all'inizio, poi dopo siamo riusciti a portare a casa i tre punti, che era la cosa più importante. Tre punti importanti per la San Benedettese, spalle al muro prima del recupero di mercoledì col Vasto Girardi. Dare un senso alle ultime cinque partite della stagione oppure vedere allontanarsi l'obiettivo minimo rimasto, i play-off. Samb che ora, dopo l'1-0 dell'altro ieri, ha un punto dal quinto posto, grazie all'ottavo gol in maglia rosso-blu di Amet Fall, che sommati ai sei segnati per il Fiugi fanno 14 stagioni. Ma io non mi pongo i limiti, non mi accontento neanche, ho solo del meglio, insomma, quindi persevero, cerco di arrivare sempre in alto e per me ogni giorno è una sfida. Domenica, altra partita da vincere, sempre a Rivera delle Palme contro il Notaresco, uno sopra in classifica. In dubbio la presenza di Lorenzoni, che dopo la squalifica ha un problema al polpaccio. Un'altra battaglia, come sappiamo che noi comunque stiamo giocando dei finali da quando sono qua, le partite sono sempre state dei finali, quindi sicuramente è una grande prova anche di carattere per far capire comunque che noi siamo una squadra forte. Battuta finale sulla piazza e sul futuro. Qui veramente subito mi sono ambientato con il calore dei tifosi, perché qua loro apprezzano i giocatori che danno l'anima e questa è stata sempre una mia caratteristica, a prescindere dai gol. Quindi io spero di fare dei grandi progetti qua, in futuro, per la città di San Benedetto.